Abbiamo l'anno scorso cominciato a parlare di Pasolini e della tragedia classica, di come Pasolini sia stato anche un buon classicista, anche se nel momento in cui è classicista, in cui si fa classicista, lo fa a modo suo, non come un filologo, non come un erudito, come un universitario, ma come un artista, con una ricchezza di interessi e di contenuti abbastanza particolari. In questa prima lezione vorrei proprio cominciare a parlare del modo in cui Pasolini si accosta ai classici e cercare di capire non solo con quale metodo, ma anche con quale finalità lo faccia. Allora, se posso, condivido lo schermo, ho preparato una presentazione in PowerPoint e così dovrei riuscire a essere più chiaro, spero. Spero anche che si veda, ogni tanto le slide sono scritte un po' piccole, spero che si riescano a vedere nello schermo del computer. Spero solo un attimo la presentazione. Ok, qui la presentazione del corso, Pasolini in un'immagine di scena, però vorrei cominciare a prendere proprio le mosse, non da Pasolini, ma da una citazione di una studiosa leggermente successiva, nel 1986, quando Pasolini quindi era morto, quindi qualcosa che è apparentemente lontano da questo autore. The Greeks' most important legacy is not, as we would like to see in democracy, is their mitology. Cioè, l'eredità più importante dei greci non è, come verrebbe da pensare, la democrazia e la mitologia. Lo scrive Mary Levkovitz in un saggio del 1986 che è stato molto importante. Mary Levkovitz è storica delle religioni, è stata tradotta più volte anche in italiano, uno dei suoi saggi più importanti, poi tradotto anche in italiano, dei greci di vita umane, è stato pubblicato qualche anno fa da UTET e mi piace citarlo perché è stato tradotto da una dei miei maestri di università, la professoressa Gian Piera Arrigoni, anche lei, storica delle religioni. Perché citare Levkovitz? Perché Levkovitz intuisce che la grande importanza, la grande eredità dei classici è soprattutto nella mitologia e lo teorizzo nel 1986, ma in qualche maniera Pasolini l'aveva già intuito, perché l'aveva già intuito prima, verso gli anni cinquanti, fine anni cinquanti, inizio anni sessanta, quando si accosta la letteratura greca non con il fare del filologo raffinato, ma con l'intento del desantropologo e vuole scoprire dei classici quello che il mito fa di nella vita umana. Capisce che gli dèi hanno avuto un grande peso nella vita umana e che dalla mitologia si può imparare il comportamento umano, si può capire il comportamento umano. Pasolini è impegnato a tradurre dalle lingue classiche. Nel novembre del 1959 comincia a tradurre l'Orestiade, noi diciamo l'Oresteide, lui scriveva l'Orestiade di Eschilo per commissione di Gasman e del Teatro Popolare Italiano. E qui ho riportato due immagini che si rifanno proprio dal Teatro Popolare Italiano. Novembre del 1959, la data non è banale, ma nel 49 già ha cominciato a tradurre alcuni frammenti di Saffin verso i flulani. Anche questo è interessante, è interessante perché Pasolini esordisce nel 1942 con una raccolta di poesie di argomento bucolico, poesia casarsa, in versi in dialetto friulano. La censura fascista blocca immediatamente la pubblicazione di questo testo. Nel 1900 in realtà produce Saffo già prima del 49, ma poi nel 49 questi testi sappiamo che sono pronti. Pasolini è ancora legato molto al Friuli in questo periodo, in questo momento della sua produzione assolutamente giovanile. Nel novembre del 59, come dicevo, l'Orestia, ma proprio nel novembre del 59 sta traducendo anche l'Eneide di Virgilio per un progetto dell'editore Neri Pozza, un progetto che poi non vede la luce, ma che insomma era stato cominciato e prevedeva la collaborazione di tanti poeti che avrebbero dovuto tradurre ciascuno un canto o quantomeno una sezione dell'Eneide. Nel progetto partecipava anche Andrea Zanzotto, per dire un po' il tenore di questo progetto. Nel 60 traduce alcuni frammenti dell'Antigone Sofoclea e li traduce, lui dice, appartemente per diletto, quando non sapeva cosa fare, lo dice proprio letteralmente. Nel 61 traduce il Miles Gloriosus di Plauto, il dialetto romanesco non più friulano, ma romanesco. Infatti lui si è trasferito dal Friuli, in seguito anche delle sue disavventure giudiziarie, a Roma, dove ricopre la carica di insegnante in alcune scuole medie e lo traduce con il titolo di Vantone, sempre per incarico del Teatro Popolare Italiano di Gassman. Il testo del Miles Glorios del Vantone non viene recitato subito in teatro perché Gassman banalmente non ha a disposizione a attori in grado di recitare in dialetto romanesco. E quindi il testo deve aspettare due anni buoni prima di essere rappresentato il 10 novembre del 63 come prima nazionale. del 67 e l'Oedipo Re e del 70 Medea, entrambi i film, va sottolineato che nel 42 Pasolini è appena ventenne e nel medesimo anno in cui pubblica anche poesia casarsa, nel 42 evidentemente l'autore è già attratto dal mito di Oedipo tant'è che scrive un testo tragico, Oedipo all'Alba, che è ancora molto poco studiato. Io onestamente non lo conosco e insomma mi piacerebbe poi anche dedicarmi in futuro. chissà che magari il seminario dell'anno prossimo non possa essere dedicato anche a questo testo per ora ancora un po' secondario, poco studiato dell'autore. Il 1970 Medea dicevo, nella 75 l'autore muore, circostanze tragiche e non ancora del tutto chiarite che tutti sanno, lascia incompiuto un romanzo che viene pubblicato postumo, Petrolio, che è fatto di quadri, di sezioni non ancora completamente saldate una all'altra, nelle scene di Petrolio, e dico scene perché Petrolio era immaginato come un testo magmatico in cui si sommava, si incastravano testi, immagini, interviste, documentari di tutto un po', una grande satura lans, nei quadri di Petrolio era anche immaginato un riadattamento delle ergonautiche di Apologno-Rodio, di Valerio Flacco, come esattamente volesse arrivarci, non si sa bene, però era stato progettato. Quindi questo per dire che l'interesse per i classici comincia in Pasolini quando è ancora ragazzo, lui è del 21-22, ora non ricordo, o 21-22, comunque ha vent'anni quando si accosta ai classici e continua questo suo interesse fino in pratica alla morte prematura. Pasolini, dicevo prima, non lavora con il taglio del filologo, ma con quello dell'antropologo. quando traduce l'Orestea riceve una sonora strontatura invece da un filologo di professione, da un universitario come De Ghani, che scrive una dura recensione, lo accusa di aver tradotto dal francese, dalle edizioni Belletre, e Pasolini lo ammette senza nessun problema, dice sì, è vero, mi sono valso di queste, dei testi, dei testi, delle traduzioni francesi, insomma un po' un traduttore del traduttore Domero, o meglio un traduttore del traduttore di Eschio, si potrebbe dire. Pasolini non ha problemi ad ammetterlo, d'altra parte ammette anche in un'intervista che insomma con il greco ha ritigato ogni tanto. Direi che i litigi di Pasolini possono essere, noi li potremmo invidiare quasi. non è sempre facile capire quali dizioni critiche, quali commenti usasse, è certo comunque che lui leggeva direttamente il greco, perché si riferisce chiaramente al testo greco, anche se ogni tanto forse con qualche impreciso, come abbiamo detto. Traduce le neide in versi liberi, ma lunghi, ha vaga imitazione dell'esame, però c'è ogni tanto anche qualche clausola metrica che si rintraccia, d'altra parte clausole metriche si rintracciano anche nei testi in proso di Pasolini, ad esempio in ragazzi di vita ogni tanto si legge qualche esame, qualche indecasillabo, così insomma disseminato nel testo. Il vantone invece viene tradotto in versi martesiani, cioè il martesiano è una coppia di settenario, è una scelta di nicchia evidentemente, che fu peraltro anche un po' discusso. Si tratta di traduzioni artistiche, con una certa moderata tendenza a modernizzare, assolutamente non esasperata, alla ricerca di omogeneità e scorrevolezza della lingua. Ecco, quello che Pasolini ricerca è una assoluta chiarezza in questi testi, ed è un merito che assolutamente tutti, anche i suoi detrattori, gli riconoscono. Qui ho riportato a titolo di esempio, non più che a titolo di esempio, la traduzione in versi friulani di un frammento di Saffo, frammento 168b, Nella tabella mi sono accorto, ora che per sbaglio ho scritto Foghite, in realtà è Robel Page, Dei Ducemenna Selanna, Eipleides, Mese Denuptes, Paraderchit Odora, e Godemona Cateudo. Ci sono anche un paio di traduzioni che potete leggere, spero che si riescano a leggere, è tramontata la luna, Dei Duce, in perfetto, a Selanna, la luna, che i Pleiades e le Pleiade insieme alle Pleiade. La notte al suo mezzo, Mese Denuptes, il tempo passa, Paraderchitai ora, Ego De, io, io però, con Ego in forte rilievo, Mona, Cateudo, io dormo da sola. E' interessante la traduzione di Pasolini in Friulano. Allora, io provo a leggere in Friulano, non ho la più pade di idea, metto palesemente, espudoratamente, di come si lega il Friulano, e pertanto chiedo, venia, se poi qualcuno lo conosce, insomma, lo saprà fare meglio di me. Osventut, la luna, Avaiut, forse ho sbagliato qualcosa, no, devo aver fatto, purtroppo non ho rivisto, devo aver fatto qualche pasticcio. No, ma con le Pleiade, è la più Pleiade. Avaiuculi, Pleiade, e tu con loro, io i resti besola, termigli, o gioventù, la luna se ne va con le Pleiade, e tu con loro, io resto sola nel mio letto. Adesso è interessante l'introduzione di gioventù, che lui evidentemente riprende da ora, il tempo passa, lui ha letto in ora gioventù, e l'ha trasportato come un vocativo. Questo, e con questo vorrei mostrare evidentemente, che la traduzione di Pasolino, è una traduzione direttamente, estremamente creativa, anche se evidentemente prende anche, insomma, lavora anche con altri autori. In un testo di Fusiso, estremamente importante, per capire l'approccio di Pasolini al mondo greco, la Grecia secondo Pasolini, di Mito e Cinema, di Massimo Fusiso, edito nel 2007, come prima edizione, e poi più volte ristampato, si trova in appendice anche la traduzione di questi inediti pasoliniani, con tanto di commento, e quindi se qualcuno è interessato, può sicuramente andare a leggere questo testo. Il cinema non è un'esperienza linguistica, non è solo un'esperienza linguistica, che cos'è il cinema per Pasolini? E con questo vorrei avvicinarmi a Edipo Re. Il cinema non è solo un'esperienza linguistica, ma proprio in quanto linguistica, è un'esperienza filosofica, così dice Pasolini in un'intervista. Nel cinema trova l'espressione una sfiducia crescente nei poteri della comunicazione verbale, è una passione altrettanto crescente per i linguaggi non verbali, per il gesto, per il rito, una insofferenza dell'autore, che peraltro si è vista già anche in tante altre opere, per la cultura occidentale. E' la contraddizione che è stata osservata tante volte in questo autore, che si scaglia contro la borghesia, eppure della borghesia non può fare a meno, perché è di estrazione borghese. E quindi lui è attratto dal cinema perché il cinema gli consente di andare oltre, di sfondare i limiti che comincia a trovare un po' angustide della letteratura. Non per niente arriva al cinema dopo aver pubblicato i due romanzi Ragazzi di vita e Una vita violenta, entrambi in lingua romanesca, dico lingua e non dialetto, peraltro di un romanesco abbastanza particolare, che non era neanche esattamente romanesco che si sentiva nelle borgate, era ancora un'ulteriore rielaborazione. Comunque lui pubblica i due romanzi non ancora, quei due romanzi sono ancora una, come dire, una rottura di convenzioni precedenti, non ancora soddisfatto di quell'esperienza letteraria e si dedica al cinema, traspone in linguaggio cinematografico questi due romanzi, intanto, come abbiamo visto, riceve anche commissioni per lavorare sul teatro, questi questi lavori non vedono il, non vedono la luce, però intanto lui ha cominciato a lavorarci e poi dal, da da cattone e da una vita violenta arriva a proda al cinema di argomento greco. Il cinema di Pasolini, come dice Fusilio, è povero, primitivo, basato sulla fissità ieratica dei primi piani, sull'impianto figurativo delle inquadrature frontali relativamente semplici, sull'uso insistito di campi e controcampi, sull'essenza di movimenti di quinta, sulle lunghe panoramiche, sull'uso anche di obiettivi di focali diverse, anche drasticamente diverse, soprattutto sulle riprese in luoghi esotici. Il cinema di Pasolini è un cinema abbastanza semplice come tecnica, senza uso di particolari effetti speciali, ma con un uso piuttosto sapiente della telecamera e con un uso continuo anche di stacchi molto forti. Attraverso questo cinema povero, primitivo, e mi riferisco però soprattutto al cinema, beh, in generale il cinema di Pasolini, ma soprattutto ai due film di argomento mitologico e greco, un cinema primitivo, primordiale, un po' barbarico, ma molto vivace, vitale, Pasolini riesce a recuperare in riferimento della lettura niciana e della tragedia greca, sia lo spirito dionisiaco sia quello Apollinio. Nicia vedeva nella tragedia greca il perfetto bilanciamento, ma questo si sa, tra l'elemento dionisiaco e l'elemento Apollinio e quindi quello dionisiaco è nella vitalità barbarica dei suoi personaggi, un edipo re anti-intellettuale come vedremo, pieno di vivacità, di forza, esuberante, assai poco intellettuale, assai meno intellettuale di quanto sia edipo invece in Sofocle, mentre lo spirito Apollinio viene recuperato non tanto nella dimensione di edipo uomo saggio, re saggio che fa il bene del proprio popolo e che è mosso da un desiderio incontenibile di conoscere, certo c'è anche questo perché questo è nel testo di Sofocle ma c'è relativamente di meno l'Apollinio in Pasolini è nella ricerca psicanalitica e antropologica sui meccanismi sociali del comportamento umano cioè Pasolini si accosta al mito di edipo leggendolo attraverso Freud e peraltro come cercherò di mostrare dopo se ho tempo intuendo anche qualcosa che forse Freud non aveva completamente messo in evidenza davvero in questo lui è un precursore e ora arriviamo ad edipo re per esplicita dichiarazione di Pasolini edipo è il suo film più autobiografico scava nel conflitto di edipo intuisce il conflitto di lagio che cosa sia il conflitto di lagio perché si parli molto di conflitto di edipo e poco di conflitto di lagio magari lo vediamo dopo per Pasolini lo studio di Freud è sempre stato fondamentale questo lui lo dice più di una volta insieme a Marx Freud è uno dei riferimenti insostituibili di questo autore e anche quando gli argomenti sono di prorompente vitalità quasi barbarica c'è sempre dietro la lente il filtro della interpretazione razionalista freudiana e marxista in edipo Pasolini si identifica con l'innocenza primordiale dell'eroe figura primordiale di barbarica incontaminata purezza lui si distacca in questo dalla lettura dalla lettera di Sofocle leggendo Sofocle non è facile capire se edipo il colpevole o no indubbiamente ma questo lo si legge proprio in Sofocle indubbiamente edipo ha sposato la madre ha ucciso il padre ha sposato la madre senza volerlo intanto però l'ha fatto e volendo oggi si potrebbe rimproverare di aver sposato una donna più anziana di lui e di aver ucciso un uomo più anziano di lui se lui proprio avesse voluto astenersi dal rischio a tenersi a tenersi lontano del rischio che l'orato gli aveva vaticinaco avrebbe dovuto astenersi da uomini più anziani di lui e da donne più anziani di lui così non è fatto quindi lì potrebbe esserci una dimensione di colpevolezza il testo di Sofocle su questo è estremamente misterioso e lì anche la bellezza di Sofocle Pasolini non ha dubbio risolve il conflitto a favore di una interpretazione di Edipo come uomo assolutamente innocente in realtà questa è anche un po' l'interpretazione di Massimo Fusillo io su questo ho una minima riserva perché poi alla fine si vede cioè alla fine durante l'episodio durante il film si vede che Edipo Edipo giovane si scaglia contro l'aglio con una violenza spaventosa e non solo contro l'aglio ma contro tutto il seguito di l'aglio fa una carneficina spaventosa quando avrebbe potuto uccidere un uomo solo e peraltro un uomo più giovane di lui quindi sicuramente non so padre lui non si è contenta di averne ucciso uno solo uccide tutti i serbi di l'aglio e poi infine uccide l'aglio quando uccidere l'aglio non gli serviva più assolutamente niente quindi insomma Edipo non è poi così tanto innocente neanche nel film di Pasolini io in questo vedo non tanto un riferimento di Pasolini alla lettera della tragedia su Foclea quanto un riferimento a Seneca Seneca condanna Edipo nella tragedia a lui dedicata non tanto perché Edipo abbia ucciso il padre è sposato la madre non è per Seneca lì il la macchia la colpa grave ancestrale irrimediabile di Edipo per cui Edipo merita la fine che fa per Seneca la colpa grave è verissima quella vera la colpa vera di Edipo è nell'ira nell'essersi abbandonato a Zira ecco nella nella scena in cui Edipo uccide l'aio si vede tutta la ir la furia di Edipo personaggio non saggio sì è vero certo Pasolini lì riproduce esalta la vitalità traboccante esplosiva di questo personaggio intanto però ne mette in evidenza anche un'ira incontrollata e incontrollabile lui è ben contento Edipo in quel momento è ben contento di esercitare l'ira successivamente se ne pentirà ma in quel momento l'esercita ben consapevole di esercitare l'ira e questa ira furiosa è proprio io penso presente più nel testo senecano che non in quello soffocleo un Edipo dicevamo anti-intellettuale questo sicuramente Massimo Fusilo lo mette molto bene in evidenza mentre l'intellettualismo è tra le cifre essenziali dell'Edipo Soffocleo perché l'eroe con il suo ingegno salva la città della sfinge Pasolini lo presenta come un personaggio di pura vitalità impulsivo irreflessivo selvaggio non intellettuale non per niente taglia la scena in cui risolve l'indovinello della sfinge si intuisce guardando il film si intuisce che Edipo ha risolto l'indovinello della sfinge ma quel momento è stato tagliato evidentemente faceva proprio comodo a Pasolini eliminare quel quel momento lì e lo si vede poi successivamente anche dopo che mentre il testo greco mette in evidenza la devozione del popolo nei confronti di Edipo perché con la sua intelligenza saputo liberare la città invece nel copione sceneggiatura di Pasolini si vede un un testo un modo di ragionare abbastanza diverso per il personaggio di Edipo inoltre Pasolini ha scelto un attore a lui ben a lui caro e ben sperimentato che è Franco Citti quello che aveva già recitato in accattone una vita violenta quindi già solo la scelta dell'attore che non era un attore professionista ma un ragazzo di Borgata beh è chiaro che Pasolini già chiaramente punta nella direzione di un Edipo vitale è vitale e non un intellettuale d'altra parte l'intellettualismo di Edipo in Pasolini va in crisi perché l'autore intende denunciare la crisi delle ideologie l'aveva già fatto ad esempio Occedino Cellaci precedentemente come è costruito il film il film accorpa tutta la storia di Edipo l'antefatto l'Edipo Re e l'Edipo Colono di Sofocle e di fatto anche l'Edipo Senecano come dicevamo ma la storia la crame dell'Edipo Senecano è modellata del tutto è completamente invece sull'Edipo Re Sofocle peraltro l'Edipo Colono era stato lungo trascurato dalle interpretazioni freudiane care a Pasolini per cui anche in questo bisogna rendere merito a Pasolini di aver di essere andato un po' oltre il materiale antropologico e insomma di studio che maneggiava e aver intuito qualcos'altro in questo è veramente un uno dei risultati del lavoro di Pasolini direttamente sui testi brevi comunque il film è costruito con una cornice moderna all'inizio e alla fine che accorpa e sarra chiude la parte centrale che è l'argomento antico ed è ambientato in Marocco tra l'altro in un Marocco traboccante di luce la colonna sonora anche è decisamente interessante sono pochissimi i pezzi di musica occidentale un pezzo di Mozart che però ricorre più volte ed è molto importante e ricorre più volte ossessivamente anche nel momento del in cui Edipo capisce ormai la propria colpa quindi verso la fine e poi una marcetta militare all'inizio e alla fine per il resto si tratta di musica o direttamente africano-giapponesi o ad essi ispirati leggermente rimaneggiati sempre in omaggio a quella concezione barbarica di cui si parlava prima dove per barbarico si intende un riferimento alla vitalità di un popolo non ancora contaminato da razionalità borghese l'antefatto è la parte del film più densa probabilmente di riferimenti psicoanalitici e autobiografici racconta la nascita del bambino tra l'altro è ambientata appunto in ambiente moderno nella campagna di Lodi con una panoramica sulla campagna racconta la nascita del bambino che comincia a conoscere la realtà attraverso la madre e il momento in cui possiamo dire che c'è l'innamoramento tra il bambino e la madre peraltro nella critica freudiana il figlio maschio ama la madre non in quanto madre in quel momento lì ma in quanto madre nel momento in cui lui era piccolissimo e quindi in cui la madre era ancora molto giovane cioè l'uomo adulto ama non la madre ormai anziana ma la madre giovane che lui ha conosciuto da bambino e quindi si capisce molto bene questo questo innamoramento eh di del bambino con nei confronti della madre poi vi sono le scene con il padre il padre è un giovane ed elegante militare di carriera un bel uomo che guarda il bambino con un sguardo rabbioso e ostile e va ricordato che Pasolini nasce a Bologna perché il padre era un militare di carriera in quel momento impiegato eh dislocato lì dai comandi superiori eh figlio di un militare di carriera davvero non è eh casuale che eh il padre del bambino il padre di Edipo ma Edipo e Pasolini qui eh il padre di Edipo sia un militare e questo militare guarda il bambino con un sguardo rabbioso ostile ci sono proprio delle didascalie eh c'è uno sguardo un gioco di sguardi tra il bambino e l'adulto e questo gioco di sguardi è accompagnato da didascalie da cartelli anche questa è una scelta da quanto eh strana in un film che non per niente non ovviamente non a caso fu anche duramente criticata il film non ebbe subito recensioni in piena di entusiasmo tutt'altro viene criticata anche questa eh scelta di eh usare dei cartelli in cartelli proprio spiegano il motivo della rabbia di del padre verso il bambino il padre vede nel bambino colui che gli ruberà la moglie che ruberà le attenzioni della moglie viene anche immaginata viene anche raffigurata non immaginata raffigurata prima una scena di ballo tra i due coniugi e poi la scena di ballo diventa una scena di amore tra i due coniugi che viene quasi spiata dal bambino attraverso le tembe eh questo per spiegare bene come nasce il conflitto eh la trafittura dei piedi di Edipo è evocata quando il padre entra nella camera del neonato e comincia a prendere a stringere i piedini eh sempre più forti fin quasi a stritolare e questo è la eh il modo in cui l'autore evoca la trafittura dei piedi eh Edipo vuol dire proprio eh dei piedi zoni eh questa è una delle immagini eh dei fotogrammi più famosi del eh film si vede uno dei servitori di l'aglio eh a cui è stato dato l'incarico di portare via il bambino di Esporo dopo che l'aglio gli ha trafitto i piedi e quindi eh il bambino si vede proprio lì appeso a questo bastone eh quasi come se fosse uno spiedo eh un'immagine anche molto molto dura molto cruda eh che rimanda però proprio al al destino di Edipo colui che è trafitto ai eh ai piedi in questo Pasolini intuisce il conflitto di Laio cioè il desiderio aggressivo omosessuale sadico del padre contro il figlio maschio questo è un aspetto messo molto in evidenza da eh Massimo Fusillo eh il quale eh fa notare che davvero qui Edipo intuisce eh qualcosa eh su cui la eh su cui Freud non si era ancora eh del tutto soffermato eh verso gli anni sessanta appunto la psicologia eh relata a Reifero perché io non sono uno psicologo non conosco e quindi mi appoggio alla letteratura che ho letto ehm la psicologia comincia a parlare di un conflitto di Laio per quale motivo forse Freud eh non aveva eh parlato di un conflitto di Laio ma solo di un conflitto di Edipo eh forse ma forse è una delle ipotesi eh perché nella Vienna la Vienna dell'epoca era ancora una società piuttosto eh parliarcale quindi non si poteva parlare forse di un conflitto di un odio del padre verso i figli maschi eh come il prologo è ambientato nei tempi moderni così anche l'epilogo è ambientato nei eh tempi moderni eh a Bologna eh riassume ecco l'epilogo riassume la storia di Edipo Colono eh è tutto sommato abbastanza breve eh l'epilogo alla parte eh più lunga del film potrebbe essere l'antefatto eh poi eh l'antefatto peraltro occupa il il prologo è una metà buona della parte centrale la seconda metà della parte centrale è occupata sostanzialmente eh dal il trame dell'impreccio del dell'edipo re che poi la parte finale l'epilogo eh è rappresentato dell'edipo a Colono l'edipo eh è cieco ma eh come si vede non eh non più col volto sanguinante suona il flauto il flauto è anche simbolo dell'ispirazione poetica eh quasi come se Pasolini dicesse che Edipo è stato per lui un motivo di ispirazione eh e qui è uno eh dei punti più evidenti in cui eh l'autore moderno si distacca dal testo antico eh Edipo Ramingo è accompagnato anziché da eh Antigone dal messaggero che l'ha ascoltato nella scena precedente all'uscita del eh dal palazzo reale di Tebe eh c'è uno stacco molto forte come dicevo prima eh l'arte cinematografica di Pasolini si eh vale anche di questi stacchi molto forti eh c'è uno stacco forte tra eh la scena in cui Edipo eh esce dal palazzo reale di Tebe quindi si conclude l'Edipo re eh eh accecato e quella scena è ancora in eh nell'ambientazione nordafricana eh mentre con l'epilogo comincia eh la storia dell'Edipo a Colom il messaggero dicevo non è più eh Antigone è Angelo eh laddove Angelo è Angelos cioè il messaggero e questo è un eh come dire è una strizzatina d'occhio al greco eh Angelo è eh impersonato dal dottore Ninetto Davoli amico di Franco Citi Franco Citi per altre morte invece Ninetto Davoli eh è ancora vivo eh per Ninetto Davoli vale esattamente quanto si è detto prima per Franco Citi eh la scelta dell'attore di strada dell'attore non professionista è chiaramente eh voluta e non casuale da parte di eh Pasolini eh simboleggia in persona la purezza l'innocenza non ancora contaminata dall'obbligo di conoscere della cultura della colpa intellettuale che caratterizza Edipo e infatti eh Angelo Ninetto accompagna eh Edipo ma intanto gioca a pallone gioca a calcio eh con altri ragazzi eh è veramente cioè Edipo ha voluto conoscere fino in fondo e da pretese di conoscere è derivata anche eh la sua disgrazia eh mentre Angelo eh è felice ma Angelo però eh accompagna anche Edipo eh mano nelle mani eh un'altra cosa interessante è che mh mentre Edipo eh in piazza suona il flauto passano davanti si sfilano davanti personaggi chiaramente borghesi ben vestiti che lo guardano con disprezzo un po' il disprezzo eh che si ha eh che si attribuisce insomma eh ad persone benestanti nei confronti eh dei sanatori di strada eh almeno così forse pensava Pasolini eh nell'edipo a Colonna ovviamente leggiamo che eh gli Atenesi sono preoccupati dal fatto che eh che Edipo possa eh abitare in Atene in realtà poi Edipo eh dice Atesio che eh la sua tomba proteggerà la città di Atene eh nel momento in cui Atene sarà in guerra contro Ed eh però evidentemente Pasolini ha voluto trasporre eh questa diffidenza degli Atenesi nei confronti di Edipo Tebano eh traducendola nella diffidenza eh nell'ostività e nella sostanziale straneità eh dei passanti borghesi e ben vestiti eleganti nei confronti eh di questo suonatore di strada con abiti eh palesemente sdluciti eh interessante notare che Elsa Morante eh di cui Pasolini era molto amico eh scrive un breve testo la serata a Colono in cui Edipo è un folle coltissimo e marginato che muore in un ospedale psichiarmi qualcanto un'antigone che parla in deletto meridionale immagini di purezza e innocenza certo eh c'è una come dire una rispondenza tra il testo dell'amorante pubblicato nel 68 cioè un anno appena dopo l'edipo Colono e eh il testo di eh il testo cinematografico di Pasolini infine vorrei proprio solo se ho ancora cinque minuti se la professoressa Scatolone mi riconcede eh leggere due brevi pezzi del greco la traduzione eh la traduzione moderna eh di eh di Franco Farrari e eh la traduzione di Pasolini o meglio la traduzione non proprio la traduzione il copione cinematografico di eh di Pasolini eh potevo scegliere tanti punti ho voluto scegliere questo perché mi sembra significativo ma è veramente uno tra tanti e se uno volesse fare l'analisi eh non ne finirebbe più potrebbe andare avanti veramente per tante lezioni ho scelto questo in rappresentanza di altri è una scelta eh del tutto personale e poi poi oi troi notà ma, come notiamo, i processi dei miei, e ho raggiunto tutti, e noi siamo in parte, e non siamo in parte, ma in questo modo, ci sono i miei. In questo modo, in questo modo, ci sono un'energia in modo, che sono in parte, e i miei e i miei, 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 Stegni, figli sventurati, questa è la traduzione letterale, figli sventurati, o paides o i croi, paides, figli, non c'è dubbio, conosco bene, siatene certi, i desideri che vi hanno spinto qui. Quindi, siete giunti supplicando, traduzione proprio letterale letterale da liceo, siete giunti supplicando a me cose note e non ignote, che poi viene reso bene e conosco bene, i desideri che vi hanno spinto qui. E' o garoida, so bene, quanto soffrite tutti, che noseite pantes, che nosuntes os e go, e non vi è nessuno fiumon tra di voi che, ostis, soffre al pari di me. Ognuno di voi è colpito soltanto nel proprio e esclusivo dolore, ma il mio cuore geme per me, per te. Il testo greco dice anche Polin, è la città. Leggiamo che cosa dice Pasolini. Qualche piccola divergenza dal testo greco che è tutt'altro che banale, testo qui, insomma, non difficile, quindi certamente non può aver sbagliato casualmente, se si distacca dal testo greco è perché proprio vuole distaccarsi, non c'è dubbio. Non mi sono davvero ignoti i desideri che qui mi portate. Molto bello, questa è qui la traduzione piuttosto letterale, devo dire. Desideri che qui mi portate, siete giunti qui, ma insomma il senso è quello. Guardate quello che dice qui, disgraziati, e su disgraziate oltroi va benissimo, miei cittadini. Non dice figli, dice cittadini, come se Pasolini avesse una certa remora, una certa difficoltà a immaginare un sovrano che dice ai suoi sudditi, figli, no no, cittadini. E questo parla anche un po' dell'idea di potere, di gestione del potere, che evidentemente ha Pasolini. Un sovrano non può dire figli, che vuol dire sostanzialmente sudditi, deve dire cittadini. Sofin troppo bene, cioè il sovrano nel momento in cui un buon sovrano non può permettersi di dire figli, Paides. Sofin troppo bene quanto tutti soffrite, anche qui di nuova traduzione assolutamente letterale. Nessuno soffre però più di me, non vede nessuno che soffra al pari di me, perché il vostro dolore tocca uno solo, uno di voi e nessuno. Invece il mio dolore è quello di tutti, mio e vostro. Ed è abbastanza singolare però che in testo greco parli di una polis e invece Pasolini non parli di una polis. Si dice, il dolore di tutti, mio e vostro. Già questo paio di osservazioni mi sembrano interessanti. Un'altra osservazione che mi sembra interessante, poi con questo concludo, c'è invece un paio di versi prima. Quindi torno indietro, però nella sceneggiatura, nel copione di Pasolini vado avanti di una mezza pagina. Così anche ora, il nostro potente sovrano, il nostro potente sovrano, la traduzione è sempre quella di Franco Ferrari, la traduzione è semplice, tutti scongiuriamo te, i chetevomense pantes, anche qui il testo è chiarissimo, è impossibile fraintennalo, è proprio di quarta ginnasio, tutti scongiuriamo pantes, tutti ti scongiuriamo, tutti noi che siamo prostro, poi, subici ai tuoi piedi. Leggiamo invece questo che non sono parole messe in bocca a Edipo, ma è un'indicazione di regia. Edipo guarda la sirente assemblea, ma non tutti lo guardano come subice. E qui è chiarissimo che lui si discosta dal testo antico. I chetevomense pantes, i chetevomense pantes, ti scongiuriamo tutti, non tutti lo guardano come subice. Anzi, specialmente i più giovani lo guardano con aria attenta e quasi torva, come se l'essere aiutati da lui fosse un loro diritto. Qua è proprio inventato di sana pianta e rispetto al testo greco. E c'è qui dell'odio verso colui che, più potente di tutti, non li sa aiutare. Anche questo forse dice qualcosa del modo in cui Pasolini si accosta al tema del potere. Varebbe la pena indagare anche altri pezzi, anche altre parti del testo. Per ora ammetto candidamente di non averlo fatto, spero magari di poterlo fare. Se questo argomento potrei tenerlo ancora per altri interventi, sempre come la classica. Grazie. 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 Grazie.